Rilassa la mente, migliora il tono muscolare, non inquina e contrasta l'osteoporosi. Camminare è facile, non è costoso e fa bene alla salute. Infatti non tutti sanno che riduce notevolmente il rischio di contrarre patologie. Secondo i dati emersi dagli studi condotti dall'Istituto Superiore della Sanità, da National Institute Cancer e dall'Osservatorio Nazionale Salute Donna, la principale causa di morte, ben il 44% dei decessi, deriva da malattie cardiovascolari. Il 28% riguarda invece le morti causate da infarto, mentre ictus e emorragie sono al terzo posto dopo i tumori. Di questi ultimi si registrano oltre 360.000 nuovi diagnosi l'anno. Dall'indagine risulta che rispetto a dieci anni fa, la donna ha un concetto di salute molto più complesso. Per il 69% delle donne rappresenta la priorità, concepita soprattutto come equilibrio con se stessa che coinvolge sia mente che corpo. Inoltre si fa molta più attenzione alla prevenzione primaria, cioè alla sana alimentazione e all'attività fisica. Se nel 2006 facevano sport il 19% delle donne, oggi la percentuale è salita a 47. I fattori di rischio di alcune patologie non possono essere modificati, come ad esempio la familiarità, mentre per altri si può fare qualcosa. Basterebbero ad esempio 30 minuti di camminata al giorno per ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, ma è necessario fare attenzione anche ad altri fattori. È possibile prevenire sia le cause di morte delle malattie cardiovascolari, ma sia anche la patologia tumorale. Fare la prevenzione primaria può ridurre circa del 30% della patologia tumorale. Prevenzione primaria cosa significa? Significa agire su delle cause che contribuiscono, determinano queste patologie. E le cause sono solo cinque. Sono il fumo attivo e passivo, l'alimentazione non corretta, cioè quindi mangiare poca frutta e verdura, mangiare molte carne rosse, poco pesce, pochi cereali, e l'obesità e l'inattività fisica, e su questo che noi vogliamo agire, che è molto importante, e l'abuso di alcol. Se noi agiamo su questi fattori, riduciamo notevolmente l'incidenza di questa patologia. Per incentivare l'attività fisica, l'assessorato alle pari opportunità del Comune di Fano, insieme alla Commissione Pari Opportunità della Regione Marche, promuove una serie di passeggiate della salute. La prima si svolgerà martedì 22 giugno, agli ore 18.30, dal Centro Storico di Fano fino alla Statua dell'Isippo. La partenza è prevista al Bastione Sangallo, dove poco prima, alle 17.30, si terrà un incontro informativo sui benefici della camminata, alla presenza della ginecologa Frattini e della psicologa e psicoterapeuta Cristiana Santini. Riteniamo che sia necessario recuperare degli spazi per noi stesse, per la nostra salute, per la salvaguardia del nostro benessere. E a volte si fa molta fatica, abbiamo molti impegni, abbiamo compiti multipli nella famiglia, nel lavoro, o anche con la politica. Ecco, e molte volte ci trascuriamo. Allora, come fare, ci siamo chiesti, per riuscire ad innescare in noi stessi il desiderio di poter in qualche modo guardarci ed ascoltarci, ecco, e fare delle cose utili alla prevenzione di malattie che nel corso degli anni poi aumentano anche come fattori di rischio. Sicuramente il tempo libero lo dobbiamo trovare perché è funzionale anche alla qualità poi delle cose che facciamo quando ritorniamo operative nei nostri luoghi di riferimento, sia in famiglia ma nel lavoro e altrove. Quindi stare bene è fondamentale e l'amministrazione deve promuovere tutto ciò che lo consente e lo garantisce. Quindi invito tutte le donne ad essere con noi il 22 e a camminare insieme.